Ok ragazzi benvenuti in un nuovo video, oggi voglio parlarvi dell'allenamento con lo spotter è un argomento che non ho mai trattato in realtà e che viene trattato secondo me un po' troppo poco quali sono i benefici di allenarsi con lo spotter? perché secondo me in generale è la cosa più anabolica in assoluto cerchiamo di vederlo insieme e cerchiamo di ragionare insieme su questo argomento Allora, allenamento con lo spotter, in assoluto i miei allenamenti più efficaci ed anabolici sono stati con uno spotter spotter che è difficile da trovare assolutamente perché bisogna trovare una sinergia tra le persone, tra gli individui a partire dall'orario di allenamento, a partire in parte anche dai carichi di allenamento però è la soluzione in generale migliore, se trovate un buono spotter per l'allenamento non lasciatevelo scappare avete fatto bingo, ok? quindi cercate di tenervelo stretto, perché? per come e come sfruttarlo al massimo Allora, innanzitutto il discorso del come trovarlo, quali sono le affinità su cui ritrovarvi innanzitutto sicuramente la simpatia, nel senso che lo spotter tendenzialmente non deve essere una persona che vi sta sul cazzo e insomma abbastanza importante come fattore e in secondo luogo la sinergia da un punto di vista di mindset, ossia come affrontate la sessione di allenamento ora, in generale, logicamente ognuno affronta la sessione con lo spirito proprio ci sono persone che tendono ad essere più rilassate durante la sessione di allenamento, quindi tra le serie e io sono una di queste persone, nel senso che sto abbastanza rilassato quando non devo buttarmi sulla serie allenante, poi mi prendo quel minuto prima per caricarmi, per affrontare la serie eccetera però per il resto sono abbastanza easy, spento, spompato, distrutto quindi a livello neurale cerco di riprendere, non sto tutto adrenalinico e focalizzato ci sono persone invece che sono molto più concentrate, ad adrenalini che tendono a stare molto più in silenzio quindi logicamente se abbiamo uno spotter che chiacchiera tanto, una persona che chiacchiera tanto una persona che vuole stare in silenzio, le cose non combaciano se invece abbiamo due persone che tendenzialmente stanno in silenzio, sono concentrate e focalizzate allora andranno alla grande o due persone che tendono a rilassarsi un po' di più allora anche in questo caso andranno sicuramente alla grande perché battutina, chiacchiera di qua e di là, poi mi prendo i miei 30 secondi, un minuto per concentrarmi magari con la musica nell'orecchio mi preparo per la serie, affronto la serie quindi questa è la prima cosa fondamentale, avere una sinergia di condivisione cioè riuscire a affrontare l'allenamento con il giusto mindset e un fattore anche fondamentale che io ricerco molto nello spotter è il fatto che mi deve vedere mentre lavoro nel senso che non è che io faccio la serie e lui si fa i cazzi suoi poi due battutine e lui fa la serie e mi faccia i cazzi miei no, mi guarda, mi assiste a ogni serie anche quelle più facili e mi corregge quel che mi deve correggere quindi magari appunto la battutina e due risate su un errore che tendo a fare su un fattore che sono riuscito a sistemare insomma lo spirito è abbastanza bello insomma chi si è allenato con me lo sa si ride e si scherza poi ci si distrugge meno male sempre quindi questo è un fattore iniziale molto importante il secondo fattore è che lo spotter deve sapere farlo spotter nel senso che non è una persona che sta là per incitare o dare una mano a caso ma è un'arte quella di spotterare bisogna sapere esattamente che cosa fare e come farlo e non è molto facile perché bisogna sapere intervenire al momento giusto quindi non intervenire assolutamente prima io molto spesso ci sono anche forse video su instagram molto spesso con spotter che tendevano ad intervenire un po' troppo presto mi ci incazzavo molto perché mi mandi a puttane sostanzialmente il set perché io magari ho 10 ripetizioni sto chiudendo la decima ripetizione batto il log eccetera e tu mi aiuti ce l'avrei fatta da solo non mi può aiutare mi impedisci di raggiungere effettivamente un cedimento tecnico e logicamente mi fai un danno quindi questo deve essere molto importante lo spotter deve sapere esattamente quando intervenire normalmente il mio consiglio è che intervenga quando l'altra persona è arrivata al cedimento cioè non riesce veramente a farcela e devi sapere anche come intervenire ci sono dei casi che vedremo tra un attimo in cui l'intervento deve essere minimo e dei casi in cui invece l'intervento deve essere molto molto importante quindi questi sono tutti i fattori che entrano in gioco per cui lo spotter deve saper spotterare e voi anche logicamente essendo spotter a vostra volta dovete saper spotterare quindi dovete sapere intervenire al momento giusto io normalmente quello che dico sempre allo spotter è non ti avvicinare troppo al carico cioè non avvicinarti anche stando con le mani sotto il carico eccetera se non magari quando mi vedi proprio che traballo perché io psicologicamente se vedo che ti avvicini penso che sta intervenendo che mi sta aiutando e mi distraggo dal set quindi io devo avere il mio campo visivo vuoto e non devo vederti se non quando mi serve vederti come supporto morale quindi quando vedi che veramente rallento tanto 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 allora avvicinati ma non toccare niente e te la chiamo io non ti preoccupare se poi non fai in tempo se poi non riesco eccetera scendo sotto, casco, i migliori set finiscono in basso quindi non ti preoccupare di questo però quando è te la chiamo io e quindi quando te la chiami lancio un urlo in cui vai 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 una roba del genere e lo spotter sa che deve intervenire quindi una tra le tante urle è quella in cui è il segnale e lui deve intervenire però è abbastanza easy da questo punto di vista quindi io credo che questo sia l'approccio migliore in assoluto lo spotter dovrebbe intervenire soltanto in quel momento ora posto che abbiate trovato un buono spotter vi troviate eccetera come poterlo sfruttare al meglio cioè perché gli allenamenti con lo spotter sono i migliori in assoluto e più efficaci in assoluto il primo discorso è sicuramente quello del mindset ossia comunque avere una persona che ti incita ti permette di caricarti molto di più allora se con lo spotter condividete pure carichi e performance è fantastico perché ovviamente c'è quel minimo di competizione io non sono per niente una persona competitiva però c'è quel minimo di competizione che arriva della serie ne ha fatte 10 devo farne 10 anch'io che poi magari ecco è un altro argomento su cui ci si scherza e tutto il resto però c'è quella minima competizione deve diventare un'ossessione al punto da farci perdere la forma l'esecuzione però comunque è quel qualcosa che ti spinge a far meglio è un po' come quando lotti contro te stesso cioè se io so che la seduzione precedente ho fatto 10 ripetizioni questa devo assolutamente farne 10 se so che Mario che è il mio spotter di allenamento che bene o male è forte quanto me su questo esercizio ne ha fatte 10 io devo farne 10 quindi da un punto di vista anche neurale del cervello in generale mi permette di abbattere molto le barriere nel senso che vado sotto cavolo Mario ne ha fatte 10 è forte quanto me 10 sicuramente le ho con questo carico e quindi vado molto più spedito e molto più confidente sin dalle prime ripetizioni questo è un fattore molto importante quindi sicuramente c'è questo discorso e il discorso anche che lo spotter ti spinge perché sì tra le altre cose deve saperti incitare come incitarti anche questo è molto soggettivo perché ci sono spotter e spotter nel senso che ci sono anche persone e persone io personalmente sono una persona che urla in palestra e mi piace che mi venga urlato in palestra non in maniera particolare ci sono alcune cose che magari possono darmi fastidio nel senso che si urla troppo dalla prima ripetizione invece io voglio che quando mi si vede in difficoltà lo spotter inizi a urlarmi contro urlarmi contro insultarmi dirmi che è uno schifo quel che vede cioè veramente spronarmi tanto e questa è una cosa che con me funziona tanto cioè mi permette di avere quella carica in più e devo urlare forte perché io sto in cuffia a me piace allenarmi in cuffia a me piace fare le serie allenanti in cuffia con la giusta musica mi da il giusto drive quindi il fatto che sotto la musica della cuffia sento queste urla mi ricordo bene o male quando suonavo perché bene o male le linee vocali del mio genere erano tutte in scream o growl quindi più o meno il fattore è quello però mi da molta molta carica per cui questo è ma certe persone non amano le urla non amano sentirsi urlare addosso quindi quando hanno uno spotter logicamente che ti urla addosso si scocciano e mandano la puttana nel set quindi in quel caso hanno bisogno di uno spotter che va là le aiuta e magari gli sussurra qualcosa dai un'altra dai un'altra ancora una cosa molto semplice quindi anche questo è un fattore però comunque in ogni caso vuoi l'uno vuoi l'altro lo spotter ti dà quella grinta in più nel senso anche quando stai un po' più piatto un po' più giù c'è comunque una persona che ti spinge al massimo e ragazzi a un certo punto ti accorgi e questa è una cosa a cui bene o male vedo che tutti arrivano e ci sono arrivato anch'io quest'anno a questo punto e non credevo che ci fosse però ti accorgi che le sessioni non sono come te le romanzano o come le vedi in emotivational cioè che entri in sala vai carico si sfondo tutto di qua di là a un certo punto soprattutto magari questo può avvenire all'inizio del meso ciclo però a un certo punto vai in campo come stavo per dire vai in sala che stai veramente distrutto sin dall'inizio cioè sei stanco comunque hai tante sessioni alle spalle il corpo sta arrivando al limite perché lo stai portando al limite e il sistema neurale deve svegliarsi il sistema nervoso autonomo deve shiftare in orto simpatico e deve andare a darti la carica quindi ci deve essere questo shift che è sempre più difficile da recuperare man mano che andiamo avanti nel meso ciclo quindi avere una persona che ti carica che ti dà il giusto drive e ti porta a portare il corpo al limite è un qualcosa di fenomenale soprattutto durante una preparazione gare in cui hai bisogno di avere quella grinta in più quella stamina in più quindi da questo punto di vista allenarsi con uno spotter permette di diciamo superare le brutte giornate sia per te che per lui perché tu ci sarai per lui e lui c'è per te da questo punto di vista ovviamente anche lei nel senso che parlavo con Giuseppe lui ha detto che in un podcast aveva detto che la migliore spotter che ha avuto era una donna quindi io personalmente la migliore spotter che ho è Giorgia quando riusciamo ad allenarci insieme come mi spotterà lei non mi spotterà nessuno perché sa esattamente quello che voglio sa esattamente quello che funziona su di me come intervenire come di qua di là perché ci sono presi delle litigate pazzesche perché magari all'inizio mi aveva sputtanato un set perché poverino non sapeva come intervenire eccetera quindi adesso è molto molto precisa sa esattamente come muoversi per cui questo come discorso ora come sfruttare al massimo cioè come lavorare all'atto pratico il mio consiglio è questo se lavorate con uno spotter la prima cosa da fare è togliete tutti gli intensifier nel senso togliete tutte le tecniche di intensità e lavorate con degli straight set semplici almeno all'inizio del meso ciclo che è una cosa che in generale si dovrebbe fare a prescindere però con lo spotter è ancor più vero perché? perché lo spotter interviene per portarvi al limite in ogni serie quindi la serie avrà un'intensità un effort inevitabilmente maggiore come? in due modi io quello che faccio normalmente è questo le diverse serie di ogni esercizio in generale io ne faccio due ok? mettiamo la prima serie è una serie in cui lo spotter mi interviene soltanto alla fine per farmi chiudere l'ultima ripetizione quindi qual è il suo ruolo? sto là sto pronto a una certa distanza se no Ludovico si incazza e mi dà fastidio entri nel mio campo divisivo quando vedi che inizio a rallentare la ripetizione ti avvicini ok? quando vedi che non salgo e te la chiamo ok? che cosa fai? applico una minima pressione per darmi una mano quindi il minimo necessario per permettermi di chiudere la ripetizione io so che lo spotter sta là quindi nel momento in cui devo spingere spingo lo chiamo lui c'è interviene poco quindi io non lo sento in realtà però continuo a spingere continuo a spingere e continuo perché so che man mano anche se io cedessi o se esprimessi meno forza meno tensione perché inizio a affaticarmi e inizio a raggiungere un cedimento effettivo lo spotter mi aiuta magari un filo di più cioè il suo compito è quello di farmi chiudere molto lentamente la fase concentrica dell'ultima ripetizione quella che non avrei chiuso di mio ma me la deve far chiudere lentamente e applicare la minima percezione necessaria per farmela chiudere quindi inizialmente mi aiuta poco poi man mano che io magari mi affatico aiuta un po' di più per farmela chiudere ok e molto spesso sono concentriche che durano anche 5, 6, 7, 10 secondi perché aiuta veramente veramente poco però soltanto quello ok quindi la minima pressione necessaria io chiudo quella ripetizione quindi magari chiudo l'ottava ripetizione faccio 7 più 1 cioè chiuse 7 più 1 forzata dallo spotter invece l'ultima serie di ciascun esercizio io voglio delle forzate vere e proprie e magari là è molto anche a sensazione nel senso io arrivo al cedimento lo chiamo e anche là non mi dà il minimo aiuto necessario per chiuderla perché se me lo dessi mi porterebbe a un livello di cedimento talmente alto che non avrei più benzina non è più niente io quando lo chiamo la cosa che dico sempre è quando ti chiamo nell'ultima serie visto che voglio farne diverse ripetizioni forzate tu considera che non ho più benzina quindi mi devi aiutare non ho più niente è inutile che ti metti là lentamente perché in quel caso ne chiuderei un'ultima invece dobbiamo farne diverse quindi che cosa succede non riesco a chiuderla te la chiamo e tu mi dai una mano un po' più concreta non è che mi togli del tutto il carico però mi dai una mano più concreta e lo spotter deve intervenire in funzione di quella che è la velocità del movimento è quello il suo parametro cioè ultima ripetizione forzata quel filo necessario devi farti chiudere il movimento molto lentamente quando ti faccio delle forzate la concentrica deve andare in un secondo pieno quindi 0 1 e ti lascio cadere 0 1 e ti lascio cadere immaginate un leccarl 0 1 e ti lascio cadere ok oppure con la chest press 0 1 e ti lascio cadere poi 0 1 e via e in questo caso è molto buono quando ci si dà un ritmo quindi magari io scendo in 3 secondi ok te la chiamo quando sto in basso lo spotter fa 0 1 3 2 1 e su 3 2 eccetera e quindi mi dà un ritmo quindi io so che la mia eccentrica la devo far durare 3 secondi per cui sono arrivato a cedimento lui mi aiuta a risalire lascio faccio 3 2 1 e spingo 3 2 e il mio compito in quel caso è quello prettamente di sostenere l'eccentrica il più possibile a un certo punto possono essere 5 forzate come 25 forzate dipende molto da che punto arrivate quanto lo spotter sa aiutarvi bene e quanto riuscite a spremervi ok iniziate magari un po' più bassi e poi aumentate il numero di forzate questo sicuramente va bene però dovete arrivare al punto in cui lo spotter vi aiuta a salire e voi non riuscite proprio a tenerla eccentrica cioè mollate rallentate l'inevitabile quindi quello è un livello di cedimento molto elevato è un cedimento addirittura isometrico ma quasi un cedimento eccentrico ok perché non riusciamo più a sostenere neanche la ripetizione eccentrica per cui è quel livello da cedimento in cui l'effort è veramente elevato quindi capite come gli intensifier sono un filo troppo in questi casi ora da qua le tecniche di intensità se vogliamo aggiungerle sono soprattutto i drop set quindi ho lo spotter che mi droppa non devo essere io a scendere eccetera soprattutto su macchinari come l'axquot o la pressa in cui è molto complesso quindi drop set sicuramente da inserire più avanti per sfruttare al massimo uno spotter e la seconda tecnica sono le ascendenti e i discendenti che sono analoghe le ascendenti sono dei dei cambi di peso che vengono fatti senza recupero per esempio un ascendente sulla leg press nel mio log ogni tanto l'avete sicuramente visto ascendente sulla leg press faccio una pizza per parte faccio quattro ripetizioni subito due pizze per parte quattro tre pizze per parte quattro quattro pizze per parte quattro ripetizioni cinque pizze per parte quattro ripetizioni eccetera cioè io faccio le quattro ripetizioni il tempo che lo spotter raggiunge una pizza per parte ne faccio altre quattro e continuo ascendente fino a non riuscire più a chiudere le quattro quindi logicamente non è un 4RM accumulo molta fatica però è una tecnica di intensità molto molto carina che mi permette di fare un ramping sostanzialmente su ripetizioni molto basse però senza recupero tra le serie c'è soltanto il tempo di aggiungere una pizza per parte e così le discendenti quindi ho magari un 8RM faccio quattro ripetizioni tolgo una pizza per parte quattro ripetizioni tolgo una per parte quattro ripetizioni tolgo una per parte quindi inizio con un buffer pian piano lo spotter mi droppa io lavoro sempre su questo numero di ripetizioni senza recupero quindi è un mega drop set in cui però l'idea è quella di fare tantissimi drop quindi anche 10 drop in cui inizio con un filo di buffer pian piano questo buffer si riduce perché accumulo molta fatica e quindi alla fine o cedo sulle quattro ripetizioni oppure all'ultimo quando ho magari due pizze per parte sparo tutto quello che ho in canna e sono delle tecniche molto molto efficaci veramente straordinarie soprattutto sulle gambe per esempio che poi possono essere fatte con tantissime combinazioni però il discorso è fare dei drop set o un ramping sostanzialmente in cui non c'è recupero tra le serie e questi sono degli spunti in generale ma tante cose poi le vedrete nel mio log ma nei nostri log in generale anche dei diversi ragazzi degli atleti ogni tanto se le andano assieme e sono delle tecniche molto molto interessanti lo vedremo poi nell'academy quando parleremo delle diverse tecniche di intensità ragazzi spero di avervi dato degli spunti interessanti perché era un argomento che volevo trattare da un po' di tempo e niente fatemi sapere se ci sono domande qualsiasi cosa rimango a disposizione e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo